benvenuti nella nostra masseria ecosostenibile ci troviamo tra ostuni e ceglie messatica nel mezzo della valle d'itria la parte più storica e suggestiva della puglia diventerà masseria scialomma integrata perfettamente nel territorio costruiremo un frantoio iper moderno ad ultrasuoni nel mezzo del campo di ulivi una parte della masseria sarà di vita a ricevere estimatori ed amanti di oilalata cui chef distributori importatori blogger giornalisti ambassador e investitori costruiremo un eco resort nel quale si potrà soggiornare sotto gli ulivi in un bubble hotel per dire l'esperienza a 360 gradi distante soltanto 15 chilometri da un mare incantevole nel 2010 ho avuto una visione camminando proprio su questo terreno in questo magnifico oliveto secolare sognavo di produrre uno dei migliori oli extravergine di oliva italiano e di portarlo in giro per il mondo confezionato in bottiglie dal design unico e da uno stile innovativo ci troviamo in un ambiente incontaminato lontano dalle colture intensive qui nascerà il nostro olio extravergine di oliva biodinamico certificato de meter poi la larga entra nella lista dei 50 migliori oli extravergine di oliva del mondo oggi con un fatturato di quasi un milione di euro è presente in 22 paesi con un brand riconosciuto a livello internazionale di fascia premium e serviamo i più prestigiosi brand della ristorazione dell'ospitalità mondiale l'azienda negli ultimi anni è cresciuta con un tasso medio del 20 per cento servendo principalmente clienti esteri l'attuale business crescerà con una stima di medio periodo di circa il 30 per cento wir sind in valetta wo sich derzeit unsere operative niederlassung befindet hinter mir das von friedrich ii von hohen stauchen einem der bedeutendsten germanischen kaiser erbaute castello swebo dank der neuen go to the market strategy werden wir unseren b2b vertriebskanal weiter ausbauen verbessern und somit auch unsere gewinnmargen steigern wie durch junge und überaus qualifizierte eulala botschafter die mitzitz in mailand und düsseldorf den verkauf und die verkaufsförderung unserer produkte in der horeca betreuen zudem werden wir alleine in deutschland und italien weitere neue 200 kunden mit einem zusätzlichen umsatz von knapp 1,5 milionen euro erwerb abbiamo deciso di focalizzare i nostri investimenti e l'espansione di oilala prima su milano perché il business del food milanese vale 49 miliardi e dove è concentrato il più alto numero di clienti in target di tutta italia non c'è luogo migliore per lanciare una tendenza una capitale di sperimentazione di idee dove è possibile combinare l'alta cucina a format e proposte sempre differenti originali e inclusive insieme ad emergio start up milanese hub di prestigio che permette l'incontro tra buyer internazionali e produttori di eccellenze enogastronomiche italiane vogliamo costruire un modello di business vincente che permette alle piccole e medie imprese di penetrare il mercato italiano internazionale ponendole fondamenta per una crescita sostenibile ma esponenziale il national geographic recentemente nominato la puglia come una delle regioni più belle del mondo motivati da quest'onda crescente di richieste di prodotti pugliesi spingeremo sull'acceleratore della crescita aziendale e porteremole la al prossimo livello abbiamo un potenziale incredibile di crescita ed immagini di guadagno proprio perché ci troviamo in puglia la regione che detiene il monopolio della produzione olivicola italiana qui viene prodotto il 50 per cento della produzione nazionale in un territorio fantastico aderendo al pensiero dell'agricoltura biodinamica lavoreremo nel pieno rispetto della natura della terra e delle piante ho sempre creduto nel potenziale della nostra cultiva coratina la quale contiene più del doppio dei polifenoli di altre cultivare italiane i polifenoli sono i migliori antiossidanti naturali in grado di prevenire l'insorgenza di tante malattie letteralmente un elisir di lunga vita abbiamo un grandissimo progetto diventare il leader della produzione di olio extravergine di oliva italiano biodinamico attraverso il nostro progetto la nostra storia la nostra innovazione ed edizione faremo innamorare tantissime famiglie nel mondo condividi con noi questo progetto investi nella nostra campagna di crowdfunding ti abbiamo riservato tantissimi rewards oggi inizia il nostro domani insieme